Dovete mangiare grassi, ma probabilmente ne assumete già più di quanto immaginiate. Ne troviamo tracce in molti alimenti, per esempio i cibi proteici hanno grassi. Li possiamo trovare addirittura nelle verdure, quindi anche se non li aggiungete direttamente nella vostra dieta, li state sicuramente già assumendo. Dunque non dobbiamo preoccuparci di queste carenze. Il problema è la quantità di cibo e l'assunzione di grassi sbagliati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS